Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 14 luglio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Mercurio mette il broncio. Ebbene sì, il vostro astro guida Mercurio oggi mette il broncio, segno che per via della solita grana di lavoro vi tocca rinunciare a una gita salutando gli amici in partenza. Pazienza per tutti gli altri, ma per quella tal persona sulla quale, tradendo la proverbiale razionalità, vi siete concessi il lusso di fantasticare, a lei si dar la buca scoccia davvero. Ecco l'effetto di venere in dodicesima casa, amica della luna affettuosa ma un filo possessiva, ma non ha sufficienza per trattenervi. Chi questa giornata riesce comunque a godersela nella natura, conserverà bi e i ricordi, ma probabilmente un bel ricordo, probabilmente non amoroso, piuttosto naturalistico, culturale e perfino culinario. Incredibile per maniaci della dieta come voi. Se una persona bella e simpatica ma un filo soffocante allunga verso di voi le zampine ricordandovi quelle del granchio o del ragno, fate subito un salto indietro, amate la natura, la vacanza, la vita, ma appartenete soltanto a voi stessi. Passeggiate e viaggi in vista. Inviti ad uscire, appuntamenti, gite, weekend. Una meta è vicina e ci si è incamminati verso di essa, si è sulla buona strada, si va verso qualcosa. Per i single si prospettano nuovi e interessanti incontri e appuntamenti. Opponete la giusta grinta e una buona determinazione a una giornata che potrebbe risultare noiosa e senza particolari emozioni. Avrete una piccola prova da superare, piccole difficoltà ve la renderanno complicate e difficile, ma alla fine ce la farete. Un periodo particolarmente fertile di idee ed iniziative, ma cosa aspettate a tradurle in pratica? Il tempo trascorso non torna. Oggi la fortuna potrebbe baciarvi improvvisamente, anche se moderatamente potreste avere qualche piccolo colpo di fortuna e meritare finalmente un po' di fortuna. Se avete necessità economiche, sappiate che questo è un periodo favorevole per prestiti o cessioni di quinto. Non fermatevi alla prima occasione ma esaminate più proposte di prestito. Oggi vi sentirete un po' nervosi, tutta colpa della luna che vi disturba e continuerà a farlo soprattutto in serata. Mettete alcune cose in chiaro con il vostro partner, ma cercate di non litigare. Oggi qualcuno potrebbe proporvi qualche buon affare. Per lui. Non fidatevi e tenete gli occhi ben aperti. Alla fine i sogni possono anche attendere. Soprattutto quando si dimostrerebbero poi poco convenienti. Programmerai un viaggio o uno spostamento, potrai trarre beneficio se sceglierai luoghi tranquilli dove ricaricare lo spirito e riposare. Abbiate cura di non scomportvi o adirarvi se nel pomeriggio dovesse sopraggiungere una notizia che vi significa che un vostro progetto o una vostra iniziativa è ostacolata. Il malumore passa in fretta. Sole e luna occupano oggi i vostri segni amici cancro e bilancia, producendo momenti benefici che stimolano letture, riflessioni, interessi culturali e politici. Se il buongiorno si vede dal mattino, questo mese di luglio vi continua a promettere scintile estive da non dimenticare. Urano, signore del vostro segno, si trova proprio ospitato felicemente in toro segno vostro alleato in compagnia di Marte pure. Poche parole oggi e anche pochi ragionamenti, contrariamente al vostro carattere razionale e riflessivo, sedotti dalla luna bilancina elegante e seduttiva in seconda casa, stasera avete le mani boccate, a cena, in boutique, in viaggio, non solo spendete per voi, ma anche per parenti e amici, Mercurio però non accetta rimproveri, mentre la bianca signora si diverte a far bella figura. Amore ed Eros. Partner suscettibile, basta una parola fuori posto a fargli mettere il muso, per fare pace e ci vogliono le maniere dolci, correte in cucina a preparare i suoi biscottini preferiti. Siete ancora single? Marte, Urano e Luna, pianeti potenti sulla ruota zodiacale, vi aprono a contatti nuovi che toccano il vostro ambiente di frequentazioni. Specie se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 22 settembre, è in questa nuova dimensione sociale che potrete incontrare chi vi farà battere il cuore. Non vi fate condizionare dal vostro temperamento chiuso e a volte veramente molto selettivo e date modo alla buona sorte dell'affettività di entrare nella vostra vita. Il sole in un segno che promuove l'armonia della coppia, il cancro, se l'anima gemella ce l'avete già, rinforza la vostra unione sentimentale. Lavoro e denaro? Primo giorno di vacanza, magari soli soletti in una località mai vista prima, prescrizione del medico o consiglio del naturopata, avete proprio bisogno di staccare la spina, ma senza compagnia sulle prime ci si sente a disagio. Per tamponare cominciate a farvi un regalino, un libro, un capo di abbigliamento o qualcosa di buono da bere o mangiare, quando ci si sente spaisati e manca un compagno al fianco, ci si coccola con extra inutili, che poi davanti al conto esorbitante risultano indigesti e apesano sullo stomaco. Ahimè, troppo tardi, ve l'avessero segnalato prima. La luna oggi dà valore al vostro impegno e nel futuro vi premierà. Operosi e concreti, non vi arrendete all'ozio. Se non siete convinti di aver prodotto qualcosa quest'oggi non sarete stati soddisfatti. Benessere. La salute è il vostro pallino, ma a volte dimenticate il lato estetico. Trascurando pelle e capelli, però, il risultato è prevedibile, vi guardate allo specchio con aria sconfitta, convinti che ormai ci voglia un miracolo. Il miracolo si chiama semplicemente centro estetico o parrucchiere, ma per oggi accontentatevi di una bella doccia e di un fresco accappatoio, provvederete lunedì. Denaro. Pur se siete generosi, avete un gran timore di spendere e preferite la conservazione, l'accumulo, alla volontà di condividere e espandervi. Il vostro segno ha qualche problema psicologico con i soldi. Venere dal generoso leone, corregge un poco questa vostra inclinazione. Per lei, se lui partendo per le vacanze vi ha dato il 2 di picche, fate la cosa più sbagliata che vi potrebbe passare in mente, affogate il dispiacere in un barattolo di mezzo chilo di gelato alla vaniglia, guarnito con torrone, cioccolato e ciliegine. Aiutarsi si può, ma perché esagerare così? Per lui, vacanza prenotata e con incredibile fortuna, lo dice anche il Vangelo Beati gli ultimi perché saranno i primi. Certo che sudare per tutta l'estate aspettando di partire a fine agosto. Ma volete mettere che brivido festeggiare il compleanno in California oppure alle Maldive? Colore delle emozioni, nocciola. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 7, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.